L'amore trionfa ad Affari Tuoi con Giorgio e Stefania, che vincono 200.000 euro e fanno impazzire Amadeus. Una storia d'amore coronata da un matrimonio, e dalla partecipazione ad Affari Tuoi, un sogno. Protagonisti della puntata del 25 aprile sono stati Giorgio e Stefania, giovane coppia ligure originaria di Genova, che nella puntata di giovedì 25 aprile hanno letteralmente fatto impazzire Di Gioia Amadeus. La storia d'amore e il matrimonio. I due innamorati hanno incantato il pubblico e il conduttore con la loro determinazione e audacia, rifiutando ripetutamente offerte importanti pur di provare a vincere una grossa cifra. Un rischio che alla fine ha pagato, regalando ai due sposi una vincita record. Giorgio, comandante di un'imbarcazione che trasporta rifornimenti alle petroliere in porto a Genova, e Stefania, che ha conosciuto durante una vacanza estiva dopo un lungo corteggiamento, hanno raccontato ad Amadeus i primi momenti della loro relazione, culminata con il matrimonio celebrato solo nove mesi fa. I due hanno anche rivelato di aver appena acquistato casa grazie ad un mutuo, e di voler utilizzare l'eventuale vincita ad affari tuoi proprio per arredarla e renderla perfetta per la loro vita insieme. Il coraggio e la complicità della coppia. Sin dall'inizio Giorgio e Stefania hanno giocato in modo aggressivo, puntando in alto, e rifiutando ripetutamente offerte del dottore che raggiungevano anche i 33.000 euro, pur di provare a vincere il monte premi massimo. Un rischio che ha preoccupato Amadeus, memore di altri concorrenti che sul più bello hanno preferito accontentarsi di cifre inferiori ma garantite, salvo poi pentirsene amaramente. Ma la coppia non ha mai vacillato, dimostrando una tenacia e una complicità invidiabili. Stefania ha spronato più volte il marito a non accontentarsi, e a provare a cambiare la loro vita con quei 200.000 euro. Così, arrivati allo showdown finale, quando il dottore ha offerto loro 65.000 euro, Giorgio e Stefania non hanno esitato a rifiutare, decidendo coraggiosamente di aprire il loro pacco e svelarne il contenuto. La realizzazione di un sogno. Facciamo come abbiamo sempre fatto, o tutto o niente, ha dichiarato Stefania tra gli applausi del pubblico. E la scelta vincente è stata premiata. Nel loro pacco c'erano proprio i 200.000 euro, il monte premi massimo. Amadeus a quel punto è letteralmente impazzito di gioia, abbracciando calorosamente i due concorrenti, definiti, una delle coppie più coraggiose che abbia mai visto ad affari tuoi. Il pubblico in studio ha dedicato a Giorgio e Stefania una standing ovation, premiando una vincita straordinaria frutto del coraggio e della complicità di due innamorati. I 200.000 euro permetteranno loro di iniziare nel migliore dei modi la vita insieme nella nuova casa, coronando un sogno d'amore lungo 10 anni.